Idee per Natale, Idee per Natale, Idee per Natale, Chioggia TV presenta Idee per Natale Christmas time is here al bello della casa, Piazza Italia a Sottomarina Adobare casa è senz'altro un piacere, ma anche un lavoro serio Ci vuole attenzione e misura per creare un ambiente accogliente e sereno Tanto per il padrone di casa che per gli ospiti delle feste Al bello della casa trovate arredo casa, complementi per la tavola, oggettistica, idee regalo e tanto altro Protagonista del Natale pagano è l'albero, non scambiatelo per un attacca balocchi Preferite la qualità alla quantità e scegliete accostamenti armoniosi Vi piace lo stile country? Ok per la lana, il feltro, il pannolenci, il legno e la latta Consigliato l'albero bianco e decori rosso-verde, acido e bianco, marrone scuro Anche l'arancio al posto del rosso può dare delle belle soddisfazioni Per un albero sciccoso, scegliete la seta e il raso Da abbinare con perle, paillettes, vetro e ceramica Scegliete abbinamenti di colore come il bianco e il rame, l'azzurro e l'argento, il rosso e l'oro Se siete indecisi su accostamenti e colori, affidatevi all'esperienza e al gusto di Federico Che saprà guidarvi sempre alla scelta giusta Per creare la giusta atmosfera, oltre all'albero e alle decorazioni varie Vi consigliamo di profumare l'ambiente con delle essenze o candele Un buon profumo conquista e resta nel cuore Tra le marche più famose ci sono le essenze Crispi Milano e le candele Yankee Candle Che è la prima azienda al mondo nella produzione di candele profumate Al muschio bianco, ai fiori di cotone, lavanda, vaniglia, fiori d'arancio, cannella, tenero Tanti profumi, uno più buono dell'altro Altri idee per Natale? Preparate una compilation con le canzoni a tema più emozionanti Tenete sempre pronti i dolcetti e tisane Se credete nel Natale di Gesù, date al presepe la giusta importanza E sopra la porta appendete un rametto di vischio Perché non c'è niente di più speciale che essere accolti con un sorriso ed un bacio Il bello della casa non è solo addobbi natalizi Ma ci trovate anche splendidi idee per arredare casa O esclusivi oggetti di design Come le bellissime lampade mappamondo della linea Atmosphere Carinissime confezioni di sali pregiati da tutto il mondo Utilissimi set Chef Yourself Per preparare crostate, muffins, fondute di cioccolato E se il periodo di Natale si sta rivelando troppo stressante Profumatissime tisane per un dolce relax Al bello della casa, anche tanti oggetti di design Come cornici, porcellane, pentole e posate Se del designer siete proprio innamorati pazzi Ci sono le meravigliose decorazioni di Natale Delle linee Sia e Locca Nera Il bello della casa è rivenditore delle porcellane Versace E del marchio Rosenthal e Sambonè Tante splendide idee regalo non solo per Natale Federico e il suo staffo vi aspettano in Piazzale Italia a Sottomarina Idee per Natale Idee per Natale Idee per Natale Chioggia TV presenta Idee per Natale